Già in Commissione avevamo fatto notare che la destinazione dei fondi che l'Assemblea ridestina alla Giunta non contengono, nella documentazione del bilancio di assestamento, l'indirizzo politico. L'Ufficio di Presidenza tramite il bilancio certifica che ci sono 2 milioni e 100 mila euro d'avanzo da restituire alla Giunta più ovviamente quelli che sono già destinati da altre leggi ma poi non dà un indirizzo per come quei fondi debbano venire utilizzati. L'unico indirizzo che noi oggi ci troviamo a discutere è quello del dato rendicontatoci, per questo lo ringraziamo, dal questore. Questo perché? Intanto perché ovviamente noi in Ufficio di Presidenza non ci siamo e quindi queste cose le veniamo a sapere quando il provvedimento arriva in Commissione e poi in Aula e quindi di questo ringraziamo il questore che informa comunque tutti i consiglieri di questo auspicio che il questore fa. Ma se non c'è un indirizzo dell'Assemblea Legislativa io non capisco come la Giunta si debba sentire impegnata ad utilizzare quei fondi che noi le restituiamo. Tanto che, chiedo scusa Presidente, faccio fatica... Sì, consiglieri, scusate se ci ascoltiamo è meglio. Grazie. Faccio fatica ad illustrare il mio pensiero. Quindi dicevo, non esiste un indirizzo che l'Assemblea Legislativa dia alla Giunta per l'utilizzo di quei fondi, appunto se non l'auspicio del questore detto a sua voce e se non una lettera fra gli uffici dell'Assemblea Legislativa e gli uffici della Giunta che non penso siano titolati a dare indirizzi ma appunto a dare comunicazione quindi giustamente dagli uffici dell'Assemblea agli uffici della Giunta si comunica che quei soldi l'Assemblea auspica l'ufficio di presidenza auspica, questo non ci è dato sapere. Quindi diciamo, e noi vogliamo ribadirlo chiaro visto che in questi giorni c'è una discussione su che cosa sia la... Colleghi, vi prego, per riuscire a lavorare a meglio dobbiamo fare più silenzio. Sì, grazie Presidente. Un attimo, vi chiedo di prestare attenzione e fare più silenzio. Consigliere può proseguire su... visto che in questi giorni c'è, anzi oggi, una discussione molto interessante su che cosa sia la democrazia rappresentativa quali siano i suoi limiti e quali possono essere i suoi sviluppi a me sembra che un'Assemblea che ha il compito di dare degli indirizzi all'esecutivo un'Assemblea che si esime di dare degli indirizzi indebolisca l'istituto della democrazia rappresentativa un'Assemblea che delega all'ufficio di presidenza o a dei tecnici a comunicare alla Giunta come deve utilizzare quei soldi mi sembra che indebolisca la democrazia rappresentativa quindi oggi, siccome noi l'Assemblea siamo parte di questa democrazia rappresentativa dobbiamo dare un indirizzo su come vogliamo che quei fondi vengano utilizzati quei fondi, allora noi come Movimento 5 Stelle facciamo una proposta quei fondi che a livello diciamo di chiacchiera o di parola o di enunciazione vengono detti vanno spesi per l'editoria e noi non siamo d'accordo ma siccome non esiste un indirizzo preciso che questa Assemblea dà noi diciamo quei fondi, quei famosi 600 mila euro non vanno spesi per l'editoria non vanno spesi per l'editoria perché poi ne parleremo successivamente quando affrontiamo il bilancio della Giunta, quindi della Regione non vorremmo che cominciasse già la campagna elettorale quindi diciamo ai giornali, guardate, di qui al 2019 ci sono 600 mila euro a disposizione per voi questa è una discussione che abbiamo già fatto quando voi approvaste quel provvedimento noi non siamo d'accordo che l'Assemblea e la Giunta finanzino l'editoria locale perché soprattutto adesso che non capiamo quando inizierà questa campagna elettorale di questa Regione questo non venga interpretato come un ingraziarsi qualcuno quindi noi diciamo l'indirizzo di questa Assemblea se voi volete rafforzare la partecipazione dei cittadini perché qualcuno dice ma noi finanziamo l'editoria perché con un'informazione più potente i cittadini sono informati bene, noi se vogliamo far aumentare la partecipazione dei cittadini alle prossime elezioni noi pensiamo che quei soldi vadano investiti in partecipazione siccome di qui a settembre abbiamo una legge, la legge sulla partecipazione che sarà discussa e andrà a riformare la precedente legge sulla partecipazione allora noi diciamo, quei 600 mila euro come Assemblea legislativa perché noi vogliamo far aumentare la partecipazione vogliamo rafforzare la democrazia che sia rappresentativa, quello che sia allora noi quei 600 mila euro li investiamo sulla partecipazione e non sull'editoria questo però viene fatto con un ordine del giorno che non è un indirizzo che magari l'Assemblea può approvare o respingere ma non con una discussione e un'informativa all'Assemblea perché questa non è come deve funzionare un'Assemblea legislativa che dà degli indirizzi politici l'altro aspetto che rilevo è questo all'interno dei fondi che noi restituiamo alla Giunta ci sono circa 350 mila euro che assieme ai 200 mila euro che l'Assemblea ha già restituito sono i risparmi che derivano dall'applicazione della legge sui vitalizi legge sui vitalizi sui quali poi tornerò quando parleremo del collegato all'assestamento perché quando discutemmo la legge sui vitalizi all'interno c'era un articolo che diceva che i risparmi venivano destinati dall'Assemblea legislativa alla Giunta e venivano destinati a sicurezza, legalità, qualità del lavoro sostegno del microcredito, sviluppo dell'imprenditorialità, rinserimento lavorativo e inclusione sociale che ci sono, quelli sono gli obiettivi che erano scritti nell'ordine del giorno che noi facciamo approvare quando ci fu la legge numero uno sui tagli ai costi della politica e che qui furono messi in legge e poi si dice la Giunta e l'Assemblea legislativa concordano le modalità e i criteri di destinazione delle risorse anche qui l'Assemblea legislativa oggi non adempia il suo compito perché non dà gli indirizzi restituiamo alla Giunta dei soldi che deciderà da sola come spendere allora a me sembra che noi stiamo delegando all'Esecutivo come l'abbiamo delegato o se è delegato da solo a dare a noi gli indirizzi politici come sull'autonomia che è un tema, che è bene, che stiamo discutendo l'Esecutivo ha dato a noi gli indirizzi per dire parliamo di autonomia noi anche oggi ci arrendiamo e diciamo questi sono i soldi fatti un po' a quello che volete ecco io penso che l'Assemblea legislativa se vuole difendere l'istituzione della democrazia rappresentativa oggi debba dire qualcosa invece questi atti passano nel generale silenzio e disinteresse dei gruppi torno velocemente ai vitalizi per dire bene che destinammo quei risparmi ricordatevi che quando discutemmo la legge sui vitalizi non ci fu permesso di portare avanti quello che noi ritrovavamo corretto cioè il sistema contributivo ma si optò si optò per un contributo di solidarità più assieme ad altri istituti che erano quelli che noi portavamo avanti cioè l'innalzamento dell'età come pure il divieto di cumulo bene oggi vi informo che siccome per questa Assemblea legislativa quando noi discutemmo quel provvedimento il riferimento era la Camera dei Deputati vi informo che la Camera dei Deputati quello che era impossibile è stato fatto quindi esiste una delibera che ricalcola col metodo contributivo i vitalizi quindi vi informo già da adesso che poi io depositerò anzi forse l'ho già depositato non mi ricordo fra tutte le scartoffe che abbiamo un emendamento in cui diciamo che anche la nostra legge sui vitalizi può essere finalmente uniformata a quello che prima era ritenuto impossibile e non esisteva quindi al ricalcolo contributivo dei vitalizi cosicché i risparmi che finalmente giustamente oggi andiamo a quantificare in più di 500 mila euro in un anno possano aumentare per andare a chiudere quella partita di modo che non ci potrete più dare dei populisti su questo argomento grazie 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 grazie